Le narrazioni possibili è il tema della seconda edizione delle giornate di letteraria che da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolgeranno nei luoghi simbolo del centro storico di Fano, alla Mediateca Montanari, a Palazzo Martinozio e nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Apriamo il 9 ottobre con una delle presenze più significative perché tra i nostri finalisti quest'anno abbiamo Michele Mari che ha partecipato al premio con Roderick Dadol che è il suo ultimo romanzo ma è sicuramente uno dei più grandi scrittori italiani contemporanei quindi sarà una grande occasione per noi averlo qui a Fano. Ma anche nei giorni successivi abbiamo sempre presenze di grande pregio per esempio delle grandi traduttrici, il sabato è soprattutto dedicato alla traduzione, avremo Emanuele Cajac che è la traduttrice alla voce italiana attuale per Einaudi di Patrick Modiano il vincitore del premio Nobel per la letteratura dello scorso anno e Monica Pareschi che oltre a essere una grande grandissima traduttrice anche autrice in proprio nonché editor per Neripozza. E si continua poi la domenica veramente con delle occasioni straordinarie come quella di incontrare Christian Raimo nel primo pomeriggio e chiudere col professor Danese che con una delle sue conferenze spettacolo sicuramente anche quest'anno ci delizierà perché il suo modo di rileggere i classici in chiave moderna è assolutamente imperdibile. Ci saranno anche due bellissimi appuntamenti dedicati al cinema, una delle traduttrici straniere è la traduttrice attuale di Nicornby quindi ci sarà una proiezione di uno dei tanti film tratti dai suoi romanzi e poi Giorgio Diritti con L'uomo che verrà che sarà insomma un momento così davvero anche di credo grande commozione, un film bellissimo per chi non l'avesse visto, sono 70 anni dalla fine della guerra di liberazione, il film racconta la strage di Marzabotto e credo che sarà anche un momento importante di rievocazione di memoria storica collettiva. Il festival di promozione dei libri e della lettura quest'anno comprende non solo seminari, incontri, proiezioni, conferenze spettacolo ma anche il momento conclusivo del premio letteraria, confermata anche quest'anno la forte presenza degli editori con 38 partecipazioni e 630 volumi inviati. Il riconoscimento per la narrativa edita in lingua italiana e straniera verrà consegnato agli autori più votati da una giuria di oltre 450 studenti di 9 scuole superiori della provincia di Pesero e Rubino, oltre 40 sono i ragazzi poi che collaborano in modo volontario anche in veste di guide. Saranno hostess e steward che guideranno gli ospiti e indicheranno quali sono le sale e le sedi in cui tutti gli appuntamenti di letteraria avranno luogo. Ricordo ancora la serata della premiazione, sabato 10 ottobre alla Sala Verdi dove l'attrice Antonella Tiri leggerà un elogio alla lettura, un testo splendido, accompagnata da un giovane pianista di nome Edoardo Giannelli e poi ecco anche lì i giovani saranno protagonisti perché saranno due studenti del liceo Nolfi i presentatori della serata che consegneranno poi i premi e chiameranno i vari autori sul palco.